Due gli arresti eseguiti dall'arma dei carabinieri a Butera e a Riesi, rispettivamente per detenzione di arma clandestina e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della stazione di Butera infatti sono intervenuti nel pomeriggio di ieri per sedare una lite in famiglia tutela dei familiari del pregiudicato 48enne Pietro Antonio Celidogno, intervento durante il quale i carabinieri effettuando una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto con una certa sorpresa all'interno di un cassetto del soggiorno, una pistola calibro 7,65 di marca Mauser, perfettamente funzionante senza matricola, con ben due caricatori e 97 proiettili, motivo per il quale Celidogno è stato tratto in arresto per detenzione di arma clandestina e condotto alla casa circondariale di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Riesi, sempre ieri, i carabinieri durante i controlli del territorio hanno invece fermato un giovane pregiudicato ventenne, Simone Alabiso, a bordo di un ciclomotore senza targa. Durante l'ispezione del mezzo i militari hanno rinvenuto all'interno del bauletto un involucro di plastica contenente 68 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il giovane Riesino dunque è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il ciclomotore, il bilancino e la marijuana sono stati sequestrati.